benvenuti in questa guida top 7 stufe alogene di consiglio pro tra questi sette abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative ma partiamo subito al settimo posto troviamo stufa alogena basso consumo energetico rendi elei tua casa calda e sicura riscalda ogni punto della casa con la stufetta elettrica alogena la vediamo la nostra valutazione una qualità generale discreta 4 stelle per l'offerta del momento nelle caratteristiche diamo 3 stelle nel complesso un buon rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 72 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo midea ns 12-13 c1 e stufetta elettrica basso midea stufa infrarossi basso consumo midea stufetta elettrica basso consumo utilizza 3 tubi di quarzo per già ecco cosa pensiamo nella qualità generale diamo 4 stelle 4 stelle per l'offerta del momento con caratteristiche quasi al top complessivamente un ottimo rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 77 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo owl rs a 1810 stufa alogena oscillante quattro livelli di potenza 450 9 centesimi 1350 1800 watt 4 la vediamo la nostra valutazione la qualità generale raggiunge 3 stelle ottimo momento per acquistare per le funzionalità raggiunge 3 stelle con un rapporto qualità prezzo adeguato il nostro punteggio generale è di 85 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare white stufa al carbonio stufa elettrica basso consumo ad alta efficienza con classe di consumo energetico a ed alimentazione 220 meno 240 v 50 hertz co vediamo il nostro parere quattro stelle nella qualità generale buona la promozione per funzionalità diamo 5 stelle ampiamente sopra la media il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 82 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo high tech stufa alogena oscillante con high tech stufa alogena oscillante con base anti ribaltamento tre livelli di potenza 400 800 1 vediamo la nostra opinione qualità generale davvero eccellente ottimo momento per acquistare quattro stelle per le caratteristiche sommariamente ottimo il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 86 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo ardes ar 454 bh alo 12 stufa stufetta alogena oggigiorno gestire la temperatura dell'aria in casa fondamentale per il proprio benessere ecco la nostra valutazione la qualità generale raggiunge tre stelle offerta imperdibile grazie allo sconto con caratteristiche quasi al top sommariamente discreto il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 95 punti trovi informazioni nel link in descrizione prima posizione vince la classifica olimpia splendid 99.396 solari a evo la stufetta alogena fino a 1200 w di potenza ideata per un riscaldamento rapido e uniforme di tutti gli ambienti treli ecco il nostro parere una qualità generale buona nell'offerta assegniamo 4 stelle con caratteristiche al top gamma con un rapporto qualità prezzo fuori dal comune il punteggio è di 91 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale